bravissima lascia bravissima onda così ok vedi che lei ha una bella centralità nel riporto chiamala brava bravo tommy lanci anche bene dobbiamo fare le olimpiadi chiama 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 no chiedi di prenderlo brava così se dovesse cadere lì chiedi semplicemente di riprendere l'oggetto ok ok stop perfetto tommy è proprio simpatico stai passando ok sì 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 la fa bene così va